Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'Osprey Mutant da 22 litri. Dopo aver visto settimana scorsa il fratello maggiore da 38 litri, vediamo anche la taglia minore da 22 litri. E adesso all'interno della recensione completa, come al solito, ne vediamo pregi e difetti. Iniziamo dal peso. Come dicevo, zaino da 22 litri, peso di 740 grammi. Un peso consono, soprattutto poi per uno zaino da alpinismo, ci può stare. Tenuto conto che qui non possiamo andare a ridurre ulteriormente il peso. Se proprio proprio possiamo togliere qualche cinghia, se proprio non ci piace, ma peso è quello. Inizio, come al solito, parlarvi dello schienale di questo Mutant da 22 litri. Uno schienale, anche lui, in nanofly. Materiale che è sempre comodo, sempre molto soffice. Materiale che, anche in questo caso, risulta essere non tanto traspirante. Come dicevo, sul fratello maggiore mi sarebbe aspettato un pochino di più dal punto di vista della traspirabilità, almeno. Per quanto riguarda, invece, stabilità, trasporto del carico, soprattutto nei momenti in cui magari ci stiamo facendo qualche canalino, ci muoviamo veloci. Davvero, sono zaini molto, molto bilanciati e stabili. Scendendo, arriviamo a parlare della fascia lombare, che questa qua è veramente molto, molto piccola. Almeno, il pezzo di tessuto è veramente molto piccolo. Questo è un must, dobbiamo portare tanto materiale, per intenderci, io qua dentro ci porterei 5, massimo, massimo 6 kg, ma proprio 6, diventano davvero tanti. Ma allo stesso modo diventa un pro, nel momento in cui non vogliamo andare a lacciare la fascia lombare, vogliamo tenerla aperta, perché magari abbiamo su un imbrago, faccio un esempio. Essendo molto piccola, da poco fastidio. Allo stesso modo, vabbè, naturalmente sulla fascia lombare non troviamo nulla, non c'è neanche una piccola cinghietta, assolutamente nulla. La chiusura sul davanti, lei lavora bene, non serve in questo caso per scaricare il peso, tutto il peso lo scaricano gli spallacci di cui adesso parliamo. Ci serve solamente per tenere fermo lo zaino e far sì che non ci sballonzogli a destra e a sinistra. Come vi dicevo, lo spallaccio, questo è molto largo, ed è largo apposta perché tutto il peso verrà scaricato, appunto, sulle nostre spalle. Però vi dico, quando portiamo 4-5 kg, secondo me, lavora bene, soprattutto se poi sappiamo mettere anche bene il carico all'interno dello zaino, lavora decisamente bene. Sulla parte anteriore, infine, troviamo la chiusura, che è possibile muoverla all'interno di diversi spazi in altezza, se tarda come vogliamo noi. E poi sulla chiusura troviamo anche il fischietto, che torna sempre comodo. Finita la parte anteriore, inizio a girarvi lo zaino e vediamo la primo lato. Vi anticipo già che i due latti sono praticamente uguali. Cosa troviamo? Nulla. O meglio, una piccola fettuccina qua nella parte superiore per poter andare a richiudere lo zaino nel momento in cui magari abbiamo uno zaino che non è completamente pieno. Sarò sincera, avrei preferito trovare anche un'altra fettuccia nella parte bassa. Questo perché mi avrebbe dato la possibilità di poter portare degli sci sulla parte laterale. Con una sola fettuccia diventa davvero molto molto difficile, ce ne vogliono almeno due. E tenete conto che non potete praticamente trasportarci quasi nulla, nemmeno delle ciaspole o roba del genere. Torna utile la fettuccia nel momento in cui magari vogliamo portare sopra una corda. A quel punto, avendo una fettuccia da una parte e una fettuccia dall'altra, facciamo passare la corda e questa resta ferma. Però poi ne parliamo, secondo me questo zaino, da un punto di vista lo sci alpinismo non è proprio l'ambito adatto più sull'alpinismo. Ma continuiamo. Arriviamo a parlare della parte posteriore, anche qua molto semplice, molto scarna. Troviamo nella parte inferiore le chiusure in ferro da andare a utilizzare per chiudere la piccozza nella parte inferiore o il bastoncino. E poi nella parte superiore il gancetto per andare a fermarle. Qui possiamo portare, come vi dicevo, una piccozza o anche due piccozze. Qua in mezzo poi c'è l'asola per chiuderne la testa. Oppure due bastoncini o ancora un bastoncino e una piccozza, poi in base a quello che dobbiamo fare. Troviamo inoltre queste due fettucce nella parte posteriore dove, diciamo sì, possiamo portare qualcosa. Qui magari ci potrebbero stare degli sci, però essendo messi nella parte posteriore o lo zaino è completamente carico o sarà veramente un casino. Uno snowboard, nì, dipende quanto è grosso, e nì anche delle ciaspole perché comunque se sono molto grosse non ci stanno. Diciamo che magari le fettucce le avrei fatte con del materiale un pochino più lungo. A quel punto magari riuscivamo a portare almeno delle ciaspole. Tenuto conto che poi, come vi dicevo, mettendo tutto nella parte posteriore lo zaino deve essere completamente carico, altrimenti veramente è un macello se andate in giro con lo zaino mezzo carico e qualcosa caricato qua. Allo stesso modo però vi racconto del materiale. Vi assicuro che questo materiale è veramente ottimo. Io ho voluto portare una singola ciaspola con la ramponatura messa proprio verso il materiale per vedere se quando andava a sfregare la ciaspola questo si rompeva. Non ha praticamente nulla. Vi assicuro che questo materiale è davvero buono. Anche sfregato contro della roccia facendo dei canalini non ha avuto nessun problema. È uno zaino da punto di vista dei materiali decisamente ottimo. Continuiamo, vabbè, la parte di qua, la parte destra, come vi dicevo, è simmetrica con la sinistra, se non solo la fettuccia che può servire per chiudere lo zaino o per la corda, ma la parte interessante arriva in quella superiore. Innanzitutto troviamo i tre gancetti di serie da osperi dove poter far passare la corda per poter calare lo zaino o tirarlo su in caso di una via lunga. La parte superiore si apre con una cerniera, cerniera fatta decisamente bene, è molto robusta, vi assicuro una cerniera robustissima. E per quanto riguarda la tasca superiore non è esterna, ma interna. Interna nella parte superiore del cappuccio. E ci si può mettere un telefono, qualche barretta, comunque cose molto semplici, considerato che poi facciamo fatica comunque a recuperarle da soli. Dovremmo sicuramente togliere lo zaino e aprirlo per riuscire a recuperare quello che c'è in quella taschina. Per quanto riguarda tutto il discorso acqua, essendo lo zaino d'alpinismo non troviamo il rincover, naturalmente. C'è la possibilità di mettere dentro una vescica tipo camelback e far uscire il tubetto sul davanti. Il materiale è un pochino idrorepellente, nel senso che se prendiamo una pioggerellina fine, una piccola nevicata, questo resiste. Poi naturalmente se iniziamo a prendere dell'acqua pesante, una nevicata pesante, quello che abbiamo all'interno si bagnerà tutto. Detto ciò ragazzi, tiriamo le conclusioni per questo Ospre Mutant 22 litri. A me è piaciuto, sarò sincero. Come vi dicevo, siccome è uno zaino più prontato all'alpinismo che allo sci alpinismo, perché banalmente faccio un po' fatica a capire dove mettere gli sci e anche metterli nella parte posteriore se non abbiamo uno zaino completamente pieno è un po' un casino. Secondo me ci sto per fare dell'alpinismo veloce. Dove è una roba fast and light, prendi, vai, fai una via proprio in salita, molto semplice, dove non abbiamo bisogno anche di tanti attrezzi, di rinvio, roba del genere. È uno zaino sicuramente per un'uscita di poche ore, non è uno zaino col quale porta dietro tantissimo materiale. Io l'ho utilizzato portandoci dentro giacca, qualcosa per mangiare, qualche attrezzo, con la picca fuori, vi assicuro che si va via veramente molto veloci ed è molto comodo. Per il resto, se state giocando uno zaino d'alpinismo per farci proprio dell'alpinismo serio, anche su tante ore o dello sci alpinismo, vi rimando alla recensione del 38 litri che è sicuramente molto più consigliato. A livello di prezzo, costa 140 euro, secondo me ci sta. Ci può stare, nel senso che comunque i materiali sono veramente buoni, abbiamo tutta la qualità osprei, quindi ci sta. Il prezzo, secondo me, è consono a quello che andremo a comprare. Detto ciò ragazzi, è una speranza che sia stato esaurito e esaurito anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e non ci vediamo alla prossima. Ciao!